Ciao a tutti, sono Riccardo Massini e questo è VLOG. Benvenuti a questa puntata su Point Blank di East for Victory, del Lock and Load Publishing, gioco di carte sulla Seconda Guerra Mondiale, ovviamente grande, tema che sempre ci regala ottimi Wargames e questa volta andiamo a parlare di questo che è proprio un gioco tattico con le carte, unicamente con le carte. Qui ho messo un po' uno, non è uno scenario ovviamente, un po' di roba l'ha rinfuso un po' per darvi un'idea, poi avremo come sempre il nostro segmento sul tavolo nel quale come ho fatto con Sky's Above Britain, piuttosto che starvi a spiegare una per una tutte quante le meccaniche, perché sono molte, faremo un po' una partita insieme, un po' qualche movimento, neanche di uno scenario, di uno scontro tipo. Perché anche parlo di scontro tipo? Perché tanto per farvi capire, questo certo è un gioco di carte, un gioco di scenari, quindi nel regolamento, nel libretto degli scenari ne trovate almeno una ventina, però è anche un sandbox in cui voi potete tranquillamente mettervi un po' i terreni, gli obiettivi o anche i non obiettivi eccetera, insomma tutte queste belle cose qui e poi tutte quante le unità e farvi da voi una vostra giocata, una vostra missione, un vostro scontro, qualcosa che qui ho fatto proprio veramente, ripeto, neanche con quello che può essere un terreno obiettivo specifico, poi dopo vedremo, ma proprio uno scontro generico. Come vedete, chiaramente, noi parliamo di gioco tattico di carte, Seconda Guerra Mondiale, ai più esperti, diciamo un po' così ai veterani, viene subito in mente il gioco di carte sulla Seconda Guerra Mondiale che è up front, verabile, up front anni 80, quindi veramente un grande classico che è ancora giocatissimo, quindi assolutamente un riferimento a cui è inutile, è inevitabile mettere a paragone questo gioco. Poi parleremo anche nelle conclusioni un po' di questi paragoni con up front, ma chiaramente la lock and load ne è assolutamente e totalmente consapevole, quindi è chiaro che qui noi stiamo parlando di un gioco che si deve confrontare con quel grande classico, però come approccio, qui vediamo l'approccio generale alla lock and load, piccolamente premessa introduttiva, ma poi lo vedrete, l'altro gioco di riferimento per questo titolo è sicuramente lock and load, tactical system, che voi conoscete benissimo, spero, se avete visto la mia serie di video dedicata a quel bellissimo regolamento tattico, che è un X encounter, ma di cui qui troviamo alcune, anzi non poche, non poche meccaniche, per esempio il combattimento, lo spotting e tante altre cose, però ritrasportate in questo ambiente di un gioco di carte, un gioco di carte cui, per esempio, i scenari, i terreni, quando entrate in una delle caselle, tutto diviso in questa griglia, e beh, voi tirate per vedere che tipo di terreno c'è, non lo sapete prima, quindi c'è un approccio sia simile all'lock and load tactical system, ma diverso, c'è un approccio simile ad up front, ma diverso, e in tutte queste diversità sta un po' l'originalità di questo gioco, gioco che appunto però sfrutta appieno l'approccio dell'lock and load, quindi l'approccio dell'lock and load cosa significa? magari manualoni, oh mio dio, sono manualoni di 86 pagine, però sono scritti molto larghi, molto belli, con molti diagrammi, poi alla fine vedete che sì, vi mette tipo 150 regole, ma poi ne utilizzate una ventina al massimo alla volta, e poi le altre le vedete mano a mano che si va avanti. Il supporto è ottimo, ne parleremo anche nelle conclusioni, ma sappiate che, se volete, lo dico subito, c'è un modulo apposito per tabletop simulator, che fra l'altro funziona perfettamente come supporto virtuale per il gioco, per chi magari non ha tanto spazio, è un po' intimorito dal discorso di dover ogni volta fare setup e contro setup, ma ha anche un modulo solitario dedicato all'interno, quindi può essere anche giocato in solitario, ma ha anche un generatore di battaglie con dei punteggi per ogni singola carta, quindi ecco, è questo che io dico, questo che mi piace tantissimo, questo approccio da lock and load, perché veramente ha un supporto pieno ai giocatori, assoluto. E questo, anche questo si vedrà, ma anche di questo parleremo nelle conclusioni. Premessa, ecco la primissima cosa che vi dico riguardo a questo gioco, preparatevi, perché questo è assolutamente un gioco che vi butta nel caos della battaglia, nel caos della frizione, proprio piena, totale, sapete, parlo sempre di frizione, mi piace tantissimo, non è che non c'entrano le macchine, ma è questo discorso di gestione degli imprevisti, bene, quindi gli imprevisti ne escono tantissimi, e questo ci porta al terzo gioco di riferimento per questo sistema, che è Combat Commander, è inutile, anche qui, Seconda Guerra Mondiale con le carte, Combat Commander un po' a metà, no, perché ha la mappa, gli esagoni e tutto, abbiamo parlato tante volte, però è un card driven, cioè è girato dalle carte. Anche qui, perché anche qui, qua ci sono queste che sono le carte azione, eccole qua, le vedete, che potete, anzi dovete utilizzare per muovere l'unità, non le muovete così di suo, questi sono gli ordini che date quello che può fare, quello che possono fare l'unità nel corso del loro turno. Però ecco, appunto, volevo farvelo vedere, però ovviamente anche farvi vedere già da subito la prima cosa che noi notiamo, è questa grafica, bellissima, anche questa interfaccia, ottima, assolutamente, qui il, la produzione, la produzione è massima, e appunto l'autore Sean Drulinger, veramente molto presente su BGG, sta già lavorando un file di chiarificazioni, perché purtroppo ce n'è, ce n'è bisogno, preparatevi perché il regolamento non è proprio chiarissimo, ma non è neanche tanto difficile, anche se è un po' procedurale, ma anche di questo parleremo delle conclusioni. Comunque, intanto così vi ho dato una prima visione di insieme di questo gioco, che però attenzione, ultima cosa che vi voglio dire, preparatevi, perché anche se è un gioco di carte, sembra un gioco di carte semplicetto, eccetera, no, assolutamente no, c'è già chi lo state riferendo, un lifestyle game, cioè un gioco a cui vi ci dovete dedicare davvero, cioè, lo si può giocare tranquillamente così, ma che se vi ci dedicate seriamente, veramente, saprà appassionarvi, saprà prendervi e richiederà anche una certa dedizione per essere esplorato nella sua interezza, ma nei suoi contenuti che sono tanti, veramente tanti, tantissimi, e quindi, attenzione, perché stiamo parlando di un gioco serio, un gioco che già mi sbilancio un secondo, poi lo vedremo anche questo in conclusione, ma lo vedrete anche nel segmento sul tavolo, non so se diventerà un classico come affronta, ma ne ha le potenzialità, ecco, ne ha assolutamente le potenzialità, e poi vedremo, però, attenzione, vedete, anzi, sul tavolo questa partita, se questo gioco, l'esperienza di questo gioco vi può interessare. Ultimissima, delle ultimissime, delle ultimissime premesse, il video della partita, lo faccio, come sempre, per farvi vedere la partita in andamento, però, attenzione, sì, come è successo con Schleswig-Hartman, probabilmente, è possibile che io faccia degli errori, non prendete quel video esattamente come la spiegazione di ogni singola regola, ah, Riccardo ha gestito così le regole, e allora si fa in questa maniera. I video su YouTube, io lo dico sempre, non servono a questo, non servono per farvi vedere i modificatori in più o in meno, perché, sì, vi possono essere di ausilio, ma quello poi sta a voi, un po' vederlo partita dopo partita, questo sia perché chi fa il video, soprattutto mentre fa una partita così, può sbagliarsi, sia perché, cosa fate, vi andate a rivedere un video di 50 minuti intero, se non vi ricordate la fase di combattimento, no, i video su YouTube, almeno per come l'intendo io, servono per far vedere a chi ancora non ha il gioco, qual è l'esperienza di gioco che ci si deve aspettare, quindi se può interessarlo o meno, cioè il flusso generale, come funziona una partita, poi, al di là che, ah, ma dovevi girare questa carta, non dovevi metterla, eccetera, non serve a quello, secondo me, almeno un video su YouTube, serve per farvi vedere come gira un gioco, al di là di tutto, e non solo farlo vedere a chi ancora non ce l'ha, quindi decide lo compro o lo compro, ma anche a chi l'ha già comprato, non l'ha ancora messo sul tavolo, però vuole un attimino avere, vedere un attimino come funziona un po' il flusso della partita per cominciare anche ad impararlo, vediamo veramente come si incastrano tutti quanti i vari pezzetti, poi qualcosa, qualche sbavatura può esserci, segnalatemela, come sempre vi ringrazio perché è importante che me le segnalate, le metto in evidenza, però ecco, appunto, ci tenevo, ci tenevo a dire questa cosa. Ora, questa batteria della videocamera sta per andare, quindi devo mettere assolutamente l'altra, e adesso passiamo, passiamo a vedere Point Blank V for Victory sul tavolo.